Oroscopo del giorno, mercoledì 29 aprile 2020 Ariete Amore La luna è nel vostro segno in questo inizio di giornata. Approfittate di questo periodo per portare avanti un progetto o avviare una nuova storia d'amore. Le stelle annunciano cambiamenti in positivo per i single. Vi aspettano giorni intensi. Lavoro Potreste ricevere delle proposte particolari e alcuni di voi potrebbero trovarsi a fare un nuovo lavoro. Toro Amore Vi state liderando di alcuni fastidi che vi hanno creato problemi. Alcune decisioni in amore però non possono attendere. Chiarite prima che sia troppo tardi. I single avranno una visione meno confusa della situazione e godranno di buoni vantaggi. Lavoro Oggi potranno esserci dei contenziosi da sanare e anche qualche questione lavorativa da risolvere. Gemelli Amore Venere continua a regalarvi giornate piene di amore. Col partner la relazione si rafforza e finalmente avrete la sensazione di essere appoggiati nelle vostre scelte. Alcuni single penseranno di fare un passo più lungo con una persona appena conosciuta. Lavoro Oggi sarà un'ottima giornata dal punto di vista lavorativo. Col favore di mercurio sarà anche una giornata fortunata. Cancro Amore Oggi avrete tanta voglia di amare e di essere amati. Tutto però dipende da chi avete accanto. Cercate piuttosto di organizzare qualcosa di divertente e piacevole. I single avranno tante risorse e molte occasioni per fare nuove conquiste. Lavoro Nuove prospettive in arrivo sia per chi vuole proseguire la carriera che per chi ha un'attività autonoma. Leone Amore Grandi soddisfazioni in amore. Sentirete crescere dentro di voi dei sentimenti che non provavate da tempo. È un giorno particolare per chi desiderava una nuova storia. Ottime prospettive per i single di fare tante conquiste. Lavoro Sarà una giornata piuttosto pesante, resa nervosa dall'opposizione della luna, ma nulla vi impedirà di avere dei successi. Vergine Amore Dopo un periodo di stress siete ora in una fase di recupero. Chi è in coppia dovrà cercare di fare il massimo per stare bene, consapevole di avere accanto le persone giuste. I single potranno condurre una situazione a loro favore. Basta un pizzico di strategia. Lavoro Potrete rimediare a un intoppo sul lavoro e chi vi sta intorno ve ne sarà molto grato. Bilancia Amore Il pianeta dell'amore continua a essere dalla vostra parte e vi regala un'altra bella giornata all'insegna delle emozioni e della comprensione reciproca col partner. I single trascorreranno una giornata diversa dal solito, ma in compagnia delle persone giuste. Lavoro L'ambito del lavoro vi creerà qualche fastidio in più, ma non perdete la fiducia nei vostri progetti. Portateli avanti. Scorpione Amore Oggi sarete molto pensierosi perché state vivendo delle situazioni esterne che condizioneranno anche la sfera sentimentale. I single dovranno stare attenti a non dare spazio alle polemiche riguardo una nuova conoscenza. Lavoro Alcuni di voi sono indecisi riguardo un cambiamento di lavoro e la scelta tra due fuochi porta molti dubbi. Sagittario Amore Dornata interessante nonostante la luna in opposizione. Avrete il desiderio di scoprire cose nuove insieme al partner e magari programmare anche qualcosa di diverso. I single faranno meglio a non esporsi troppo con una persona appena conosciuta. Lavoro Siete pronti a nuove iniziative e non dimenticate che a breve ci saranno nuove idee e nuovi progetti. Capricorno Amore Oggi dovrete essere pronti a tutto. Potrebbero accadere eventi inaspettati. Tenete in conto anche la fine di una relazione per molti del segno. Sentimenti in subbuglio anche per molti cuori solitari. Oggi è una giornata no. Lavoro Mercurio è pronto a regalarvi opportunità sul fronte lavorativo. Tutte da prendere al volo. Acquario Amore Oggi buone notizie per i nati del segno. Mercurio tornerà a sorridervi e le occasioni di successo si moltiplicheranno. Qualche tensione nelle coppie per malintesi, ma tutto risolvibile. I single dovranno stare attenti alle delusioni. Non esponetevi troppo. Lavoro Sul lavoro potrebbero arrivare delle grosse novità che porteranno dei cambiamenti positivi per il futuro. Pesci Amore Siete pronti per andare avanti e tutto appare sotto una buona stella. Anche se ci sarà qualche discussione in famiglia o nelle relazioni, riuscirete a mantenere un certo equilibrio. Per i single si preannunciano nuovi incontri intriganti, probabilmente in serata. Lavoro Mercurio è favorevole e vi aiuterà a prendervi tutte le rivincite che desiderate. Giornata fortunata nel settore lavorativo. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori.